Per fronteggiare le difficoltà di tracciamento in questa fase della pandemia, da oggi nelle Marche sarà possibile diagnosticare la positività da Covid-19 o uscire dall'isolamento e dalla quarantena anche con il tampone antigenico rapido senza bisogno della conferma con quello molecolare. Lo ha annunciato su Facebook il governatore Francesco Acquaroli spiegando che le nuove disposizioni sono contenute in una circolare adottata dal Dipartimento della Salute. Questo tipo di tampone potrà essere effettuato oltre che nei drive dell'Asur anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, dalle farmacie convenzionate e dai laboratori analisi e le strutture accreditate e autorizzate. Un cambiamento che permetterà di alleggerire il super lavoro dei sanitari dell'Asur alle prese con centinaia di cittadini in code e lunghi tempi di attesa per ottenere un appuntamento. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini si è impegnato molto, ci hanno riferito, per portare a termine questo percorso perché ci sono tante persone che aspettano di poter tornare a vivere o al lavoro o semplicemente per sapere se hanno contratto il virus. Dunque il tampone eseguito nei drive resta gratuito ma se non si riceve un appuntamento in tempo utile ci si può affidare al test antigenico somministrato dai medici e dai farmacisti ma a pagamento. Il prezzo è abordabile, hanno evidenziato dalla regione, e le farmacie sono capillari sul territorio. È una scelta che l'utente può adottare per accelerare i tempi. Le stesse regole valgono anche per l'uscita dalla quarantena scolastica. La regione poi ha precisato che per i lungamente positivi asintomatici resta comunque valida la riammissione nella collettività al ventunesimo giorno dopo il primo tampone positivo senza necessità di ulteriori test. Mentre i casi ancora sintomatici possono effettuare il tampone di controllo soltanto dopo almeno tre giorni dalla scomparsa dei sintomi.